ciao sono luna rosa e volevo ringraziare chi ha commentato il mio video precedente dal titolo uova nel nido perché ha notato molto attentamente l'arrivo di un intruso che si è posato sullo spaghetto e poi se n'è andato diciamo una presenza sorpresa di conseguenza possiamo chiamare questo la bellezza della diretta oppure la bellezza di poter tenere le finestre aperte e di stare diciamo così in mezzo alla terra al verde e di conseguenza dalla finestra possono entrare ragni mosche zanzare api formiche cimici cavallette e molto altro di conseguenza continuerò a tenere le finestre aperte durante tutto questo autunno e anche nell'inverno per cui ci possiamo aspettare altri ospiti a sorpresa intanto rinnovo buon appetito a tutti naturalmente senza la presenza dell'intruso e magari questo può essere uno spunto anche per qualche mia prossima creazione in cucina ringrazio di nuovo tutti e ciao da luna rosa